Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di G News. Apriamo con la cronaca perché a causa di una presunta violazione nella dimensione delle maglie della rete le autorità del Gambia hanno sequestrato la nave da pesca Hydra Q armata dalla Italfish di Martinsicuro. A bordo il capitano Sandro De Simone di Silvi Marina e il direttore di macchina Massimo Liberati di San Benedetto del Tronto. Ora i due sono in stato di arresto. Vediamo. Posti in stato di fermo per una decina di giorni, a conclusione di un'udienza sommaria, sono finiti in carcere due italiani trattenuti in Gambia, la cui nave da pesca è finita sotto sequestro per la presunta violazione delle dimensioni delle maglie di una rete presente a bordo ma non utilizzata. A ricostruire la vicenda ha l'ansela Italfish SRL di Martinsicuro, società armatrice dell'imbarcazione iscritta a Mazzara del Vallo e con una base operativa anche in Senegal. Agli arresti a Banjul, capitale del paese africano, sono finiti il capitano della nave Sandro De Simone di Silvi Marina e il direttore di macchina Massimo Liberati di San Benedetto del Tronto. Segue la vicenda anche la farnesina attraverso l'ambasciata italiana a Dakar, competente in Gambia, riferisce la società armatrice. Un armatore è sul posto, mentre un altro è a Dakar in contatto con l'ambasciata. De Simone è ripartito dall'Italia circa un mese fa, dopo un periodo trascorso a casa. Suo fratello Cesare racconta che una quindicina di anni fa, in Somalia, era stato sequestrato dai pirati per diversi mesi, portato a terra, aveva vissuto in una capanna, spiega. Poi l'armatore era riuscito a far rilasciare lui e gli altri tre membri dell'equipaggio. La moglie, come ha riferito il fratello del comandante, è rimasta in contatto con il marito e l'ha sentito l'ultima volta ieri. Dell'equipaggio farebbe anche parte un marittimo originario di Torano, Vincenzino Mora, che invece è rimasto nella barca ormeggiata in porto. E un bidello di 59 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere rimasto schiacciato da una pressa. L'incidente è avvenuto all'Istituto Geometri Leon Battista Alberti di Avezzano e l'uomo insieme con un collega stava spostando dal sottoscala dell'istituto un macchinario in disuso per preservarlo dalle intemperie. Durante il trasporto l'attrezzo da lavoro si è improvvisamente inclinato, schiacciando così il bidello che è stato subito soccorso dal personale del 118 ed è stato trasferito in ospedale dove però è deceduto poco dopo. E la banda che assalta le colonnine dei self-service pianifica un altro colpo. Il furto però fallisce visto che alcuni residenti richiamati dal rumore si affacciano, lanciano grida e soprattutto chiamano i carabinieri. Così i componenti della banda battono in ritirata e si allontanano prima di completare l'opera. L'episodio non dissimile nella tecnica da quelli messi in atto qualche settimana fa a Villarosa si è verificato a Tortoreto sulla Statale 16 i danni dell'area di servizio Kuwait. E la Digos di Chieti invece ha arrestato un uomo di 31 anni di Campobasso che è responsabile del lancio di bombe carta allo stadio Angelini. Durante la gara del campionato di Serie D tra Chieti e Campobasso di domenica scorsa. L'uomo denunciato anche per danneggiamento aggravato è stato individuato dopo l'esame delle immagini del sistema di videosorveglianza. Durante l'incontro i tifosi del Campobasso aveva gettato bombe carta che hanno provocato danni alla pista di atletica dello stadio. E la polizia di Senigalli ha posto i sigilli a due centri massaggi lungo la strada statale adriatica dove si svolgevano incontri a luci rosse. Gli agenti avevano ricevuto delle segnalazioni e sentito numerose persone che avevano frequentato i due centri dove giovani donne cinesi erano impiegate come massaggiatrici ma in realtà fornivano delle prestazioni in natura sessuale. Due cinesi di 40 e di 30 anni sono stati arrestati per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Ed è stato pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori di riqualificazione della pista ciclopedonale del lungomare di Alba Adriatica. L'iniziativa rientra nel progetto regionale Bike to Coast. I lavori, a differenza di quanto era stato ipotizzato in precedenza, prenderanno il via dopo la stagione estiva proprio per evitare problemi durante la bella stagione. Ma ascoltiamo il sindaco di Alba Adriatica, Tonia Piccioni. Sindaco, una delle opere probabilmente più attese riguarda la riqualificazione del lungomare nell'ambito del progetto Bike to Coast. Si sta muovendo qualcosa nelle ultime settimane? Sì, infatti noi siamo stati molto celeri per poter ottenere questo finanziamento come era stato richiesto dalla regione. Alba Adriatica la vede coinvolta in questo progetto soprattutto per quanto riguarda un aspetto del restyling del lungomare perché noi ce l'abbiamo, una pista ciclabile nota creata nel 1970 che appartiene alla passeggiata verde d'Abruzzo. Quindi noi siamo fortunati ad avere questa bellissima pista ciclabile. Qui ci siamo mossi in tal senso, pertanto per ottenere questi finanziamenti abbiamo già fatto un progetto esecutivo, già c'è un bando, siamo in attesa dei finanziamenti poi della regione per poterlo iniziare. Ci sarà la possibilità di poterlo realizzare prima dell'estate oppure secondo lei slitterà tutta dopo la stagione? Sì, questo conferma di ciò poiché effettivamente quest'anno come tutti noi sappiamo Pasqua viene il 5 di aprile e quindi ci sarà un flusso di persone sul territorio, pertanto non potremo interrompere quello che è la passeggiata e la pista ciclabile. Sicuramente scongiuro il caso dell'anno scorso che è accaduto per quanto riguarda sul ponte lì a ridosso tra Villa Rosa e dal Baldriatica. Quindi iniziare a interrompere un lungomare per lavori di rifacimento, di tinteggiatura, perché nel progetto abbiamo fatto soprattutto questa riqualificazione di quella che è attualmente la pista esistente, sicuramente andremo a creare più un disagio che altro. E farà tappa giovedì e venerdì prossimi al binario 1 della stazione centrale di Pescara il Treno Verde, la storica campagna nazionale di Lega Ambiente e Gruppo Ferrovie dello Stato che quest'anno cambia declinazione per dar vita ad un viaggio speciale dedicato all'agricoltura e all'alimentazione proprio in vista di Expo Milano 2015. E durante la trasmissione 45 giri che è andata in onda questo pomeriggio e che sarà riproposta al termine di questa edizione il sindaco di Giulia Nova Francesco Mastromauro ha espresso il suo parere sulla questione del depuratore di Tortoreto. E a detta del primo cittadino va valutata bene la possibilità di costruire un nuovo depuratore e di dismettere quello già esistente. Ascoltiamolo. E' stato sottovalutato il problema e le spiego perché. Non entro nelle polemiche politiche di Tortoreto. Lo dico in maniera oggettiva visto che il depuratore di Tortoreto serve forse più la parte di Giulia Nova Nord che poi quella dove ci stanno tutti i campeggi ma in qual misura quella di Tortoreto. Quindi è un luogo che fornisce un servizio indispensabile per un'area vasta. Secondo me fare un lotto soltanto di quel depuratore non risolve nulla del nuovo depuratore. Perché nel frattempo funzionerà sempre quello attuale e quindi mi si dovrà spiegare come faremo a risolvere i problemi quando la popolazione cresce durante il periodo estivo. Allora io dico, ho chiesto con forza anche al governatore, capisco che a lui non c'entra nulla perché la programmazione viene da lontano. Allora, è possibile immaginare di rivedere questo finanziamento e di farne uno che sia sufficiente a fare un nuovo depuratore ma non solo un lotto ma che consenta nel contempo di farlo funzionare come abbiamo fatto a Giulianova, lei lo ricorderà, io ne ho fatto uno grande nel 2011, è stato inaugurato e ha risolto tutti i problemi. E farlo entrare in funzione e dismettere quello esistente? Perché se no mi si deve spiegare, senza entrare nelle polemiche non ci voglio entrare perché non sono competenze che mi riguardano, mi preoccupo solo dei cittadini. Se noi facciamo solo un lotto che però non sostituisce quello esistente mi si deve spiegare come risolviamo il problema. Qualcuno dice, sprechiamo, non possiamo utilizzare quei soldi, io lo so che è così perché si deve utilizzare entro il 2017, ma si potrebbe con un'azione congiunta spingere verso la regione per dire, un attimo, così non risolviamo i problemi anzi forse li aggraviamo. Allora, per non perdere quei soldi possiamo pensare di utilizzare quei soldi per fare un'altra cosa ma con un lotto funzionale, non un lotto separato e trovare le risorse, visto che adesso la stiamo trovando per fare il nuovo depuratore di Tortoreto. E in riferimento alla crisi aziendale della Prismia nel sindaco di Ascoli Guido Castelli ha incontrato Simona Vicari, sottosegretario di Stato al Ministero delle Attività Produttive. Nel corso del colloquio il sottosegretario ha spiegato le modalità per ottenere il riconoscimento dello stato di crisi dell'area industriale. Castelli ha anche sollecitato Paolo D'Erasmo per un incontro utile a raccogliere dati ed elementi necessari per la stesura di un accordo di programma atto al rilancio della zona industriale di Ascoli Piceno. E l'USB ha lanciato anche una raccolta firme sotto iscrizione tra gli operai e i dipendenti della Prismian di Ascoli Piceno per presentare al governo una diffida dal sostenere l'azienda milanese con i contributi che sono stati promessi per le attività produttive nel sud Italia, così proprio come anticipato dall'assessore regionale Antonio Canziani. Il segretario dell'USB Andrea Quaglietti propone anche uno sciopero di solidarietà a favore dei lavoratori della Prismian da parte degli operai e impiegati delle aziende del territorio. E dalle ultime rivelazioni Istat, due sono i dati che sono descrittivi del cambio di rotta della regione Abruzzo. Torna infatti a circolare un ottimismo fondato su nuove prospettive. Sono circa 5.000 in più gli occupati e per la prima volta le imprese che nascono sono maggiori in numero rispetto a quelle che invece chiudono. Torna così ad essere abbattuta la mortalità delle aziende grazie ad un nuovo impulso imprenditoriale. Siamo convinti che le imprese operanti siano destinate a crescere e che possano dare vita a 100.000 posti di lavoro nell'arco dei prossimi anni. E non è invece della stessa opinione la CGL, altro che aumento degli occupati. Si legge in una nota di Gianni Di Cesare che è il segretario regionale della CGL. La terribile verità dell'Abruzzo è che in tutto il 2014 si sono persi circa 10.000 posti di lavoro che corrispondono a circa un quarto di tutti gli occupati sfumati nel intero mezzogiorno italiano. Se il presidente D'Alfonso annuncia con enfasi che in Abruzzo si creeranno 100.000 nuovi posti di lavoro dovrebbe anche mettere in campo nuovi progetti concreti. Parliamo ora di Fermo, una provincia equilibrata, quella fermana che nelle primarie regionali del PD. Infatti è stato soltanto del 3% lo scarto tra Ceriscioli e Marcolini. Intanto si delineano però i contorni delle primarie per il 29 marzo e per i candidati a sinistra le comunali del capoluogo e servizio. Quella di Fermo è stata la provincia più equilibrata tra le 5 delle Marche nel duello Ceriscioli-Marcolini. I due sfidanti per la candidatura a governatore hanno chiuso separati di 128 voti 1931 contro 1803, circa il 3% di distanza con risultati molto diversificati da un comune all'altro in cui spicca l'affermazione dell'assessore regionale nel capoluogo dove si voterà a maggio dopo la spaccatura del PD. E appunto per tornare alla questione in città, la data importante in programma è quella del 29 marzo per le primarie del PD, fra i possibili candidati il presidente della provincia Fabrizio Cesetti. Intanto scalda i motori la lista Piazza Pulita, un nome che non è ancora del tutto ufficiale che sancirebbe l'accordo fa Paolo Calcinaro e Francesco Trasatti, entrambi ex vice sindaci di Nella Brambatti. Sono i due esponenti più votati alle passate elezioni e tutti e due sono entrati in rotta di collisione con l'ormai ex primo cittadino. Possibile candidato a occupare la poltrona più importante potrebbe essere Calcinaro anche se i particolari sono ancora tutti da definire. E Luca Ceriscioli apre all'Udc ad area popolare partiti di centro, ma solo se divideranno le loro sorti dal progetto politico centrista del governatore uscente Gianmario Spacca e dal suo movimento Marche 2020. Sono convinto che il centro che in questi anni ha governato insieme a noi, ha detto Ceriscioli, ha avuto prova e riprova del rapporto da veri alleati con il PD. Sarebbe un peccato disperdere quel patrimonio. E secondo il capitano del Circolo del Mare ci sarebbe bisogno di una nuova ordinanza restrittiva per quanto riguarda l'accesso al porto di Porto San Giorgio. Il dragaggio rimane comunque una situazione molto difficile, i particolari nel servizio. Il fondale del porto di Porto San Giorgio cola sempre più a picco, si passa il gioco di parole per descrivere una situazione, quella vissuta sul canale d'ingresso dell'approdo san giorgese, che purtroppo peggiora di ora in ora. Una seconda ordinanza ancora più restrittiva sulla navigazione non è da escludere. Secondo il comandante del Circomare Fabrizio Strusi, infatti il dragaggio è in materia politica con il sindaco Loira che cerca di addire ai fondi regionali e l'assessore Giorgio pronto ad impegnarsi. Ma al di là di questo non c'è nessuna certezza e le notizie per i diportisti e i marinai non sono affatto incoraggianti. Intanto il sindaco Loira dopo aver incontrato al Ministero circa un mese fa con l'assessore Ciabattoni gli incaricati per addire a quei fondi particolari direttamente dal Ministero dice che comunque sono fondi disponibili ma ambiti da altre città italiane che hanno la medesima situazione per il porto. E intanto si continua a trattare con la Regione sperando che in questo momento di campagna elettorale per le regionali ci sia maggiore attenzione ad un problema del genere. E il sindaco Loira ha sollecitato in particolare tutte le consigliere regionali del territorio senza guardare gli schieramenti perché ci sia un'attenzione e arrivino finalmente i fondi per il dragaggio del porto di Porto San Giorgio. Il circolo del PD di San Nicolò, la frazione più popolosa del comune di Teramo denuncia l'assenza di aree verdi e di spazi per bambini accusando anche l'amministrazione Brucchi di trascurare la frazione teramana che è appunto la più popolosa. L'unico spazio verde attualmente destinato al gioco al tempo libero proprio come si legge in una nota è assolutamente insicuro a causa di strutture fatiscenti. Alla luce di questa situazione il circolo del PD di San Nicolò propone la realizzazione di un nuovo parco nell'ex zona PEP proprio attraverso l'utilizzo dell'area verde adiacente alla scuola primaria Serroni. Invece nel plesso scolastico di Tortoreto Alto da giorni hanno preso il via i lavori di adeguamento sismico della struttura. Le opere secondo il programma dovrebbero concludersi a settembre ma qualora questo non avvenisse per garantire il normale svolgimento dell'attività didattica l'aggiunta comunale è pronta a dirottare gli studenti delle scuole di Salino attualmente in disuso il servizio. Tarquini fase molto particolare per quanto riguarda le scuole in programmazione degli lavori di adeguamento sismico che potrebbero forse sovrapporsi all'attività didattica l'amministrazione studia soluzioni alternative. Stiamo lavorando in questi giorni proprio per verificare e programmare gli interventi che dovremo realizzare per quanto riguarda l'adeguamento della scuola di Tortoreto Paese e gli uffici stanno lavorando allegremente assieme all'assessore di riferimento proprio per garantire il minimo disturbo possibile per l'attività didattica ma soprattutto anche per comprendere meglio gli interventi e quindi programmarli nel miglior modo possibile. Uno degli aspetti qualora ovviamente non si riuscisse a terminare i lavori durante la pausa estiva è quello probabilmente di poter ricorrere in eventualità alle strutture di Salino attualmente in disuso ma insomma funzionali. Sì, quella è un'eventualità che l'amministrazione ha a disposizione se dovessero insorgere problematiche legate alla tempistica diciamo che quello come qualcuno ha voluto definire è forse un piano B però noi intendiamo rispettare i tempi è chiaro che quando si parla di lavori può esserci qualche imprevisto speriamo che non ci siano insomma. Lavori per concludere comunque necessari visto che l'abbiamo detto più volte sul fatto che comunque gli edifici scolastici tortoretani al pari di altri sono un po' datati quindi insomma gli interventi sono necessari ma come ho detto in precedenza sempre con te gli edifici scolastici sono una priorità l'amministrazione è attenta sono interventi importanti l'adeguamento sismico va fatto io ci tengo particolarmente perché la sicurezza dei nostri edifici deve essere garantita così come quello della scuola materna che è in programmazione successivamente è chiaro che noi dobbiamo affrontare e iniziare la lunga riflessione per dare una risposta definitiva anche alla scuola nel nostro paese L'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto vista l'allerta meteo della protezione civile ha deciso di rinviare di una settimana l'entrata in vigore del provvedimento di istituzione del senso unico in via Marsala che sarà quindi operativo dall'11 marzo la decisione è stata presa non solo per ridurre i disagi al traffico ma anche perché il personale della Polizia Municipale potrebbe essere impegnato in servizi connessi appunto al previsto maltempo Turismo e strade sono il cruccio delle aree interne teramane sia del Gran Sasso che della Laga questa mattina i sindaci si sono incontrati con il presidente della provincia di Teramo con l'obiettivo di confrontarsi su progetti comuni in un'ottica di area bassa strategica e l'attenzione si è concentrata sui problemi della viabilità e della mancanza di risorse per le manutenzioni anche ordinarie l'accessibilità ai luoghi è ritenuta condizione prioritaria per l'efficacia e per il successo di qualsiasi operazione di rilancio turistico e andiamo a Campli che ha partecipato alla BIT di Milano la vetrina internazionale del turismo più ambita in Italia grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pietro Quaresimale che auspica di diventare capofila di un'iniziativa per riportare l'Abruzzo protagonista assoluto ascoltiamolo successo per il comune di Campi alla BIT di Milano anche perché siete stati l'unica cittadina abruzzese a poter partecipare alla BIT sì sì una bellissima esperienza sicuramente Campi si è affacciato su una vetrina del turismo internazionale sicuramente da rifare tant'è vero che un altro anno voglio fare il capofila di un'iniziativa pubblico privata per riportare appunto l'Abruzzo a questa bellissima manifestazione del turismo perché quest'anno appunto mancava e solo il comune di Campi era rappresentativo dell'intera regione voglio ringraziare anche il comune di Castelli che ha derito la nostra iniziativa tre giorni bellissimi abbiamo avuto contatti con tanti tour operator che porteranno dei flussi turistici anche da noi quindi è un'iniziativa importante e come dicevo sicuramente da rifare è stata apprezzata Campi come città cosa è piaciuto di più? Ma va bene Campi logicamente non è conosciuta perché molti avventori che venivano nel nostro banchetto non avevano mai sentito parlare di Campi però vedendo le brochure hanno apprezzato i nostri monumenti i nostri tesori e anche alcuni prodotti enogastronomici che tra l'altro abbiamo portato lì ad assaggiare abbiamo anche avuto rapporti con altri sindaci su tutti il sindaco di Favignano con cui vorremmo fare un gemellaggio e sono stati consegnati oggi 5.500 euro raccolti dalla Polizia Municipale di Pescara per Federico Cetrullo il 23enne che è stato coinvolto in un grave incidente e ora ricoverato nell'ospedale Niguarda di Milano in attesa di essere operato in Svizzera per tornare a camminare i fondi sono stati raccolti il 13 febbraio scorso nel corso della cena spettacolo Un Sorriso per Federico a cui hanno partecipato anche Martufello il comico abruzzese Induccio e il musicista Medeo Giuliani l'assegno è stato consegnato al padre del ragazzo l'operazione costerà circa 110.000 euro e con le varie iniziative sono già stati raccolti circa 75.000 euro bene, apriamo ora la pagina sportiva Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le previsioni meteo a cura dell'Istituto Aeronautico Antonio Locatelli diamo una scelta grafica che ci mostra la panoramica generale per quanto riguarda la penisola italiana come possiamo notare copertura nuvolosa ancora consistente su tutta la penisola notiamo come ci sono delle nevicate di debole intensità sull'arco alpino e i rovesci si estendono anche sulle fasce più occidentali del nord Italia ricordiamo che sarà giornata coperta in Valpadanna e i rovesci si estenderanno fino alle regioni del centro mentre per quanto riguarda il resto dell'Italia meridionale situazioni di bel tempo infatti giornate serene o al massimo variabili scendiamo in dettaglio vediamo le previsioni per quanto riguarda Marche Abruzzo situazione conforme alla macro regione del centro Italia notiamo come i rovesci si accentrano sulla regione Marche ma anche nel corso della serata specialmente nelle prime ore della sera arriveranno le piogge anche in Abruzzo quindi i rovesci saranno alternati a momenti discrete le temperature massime previste oscilleranno tra 12 e 16 gradi vi ringraziamo per la cortesa attenzione da Matteo Locatelli è tutto al prossimo appuntamento e dopo aver visto le previsioni meteo apriamo ora la pagina sportiva con le designazioni arbitrali infatti questi sono gli arbitri designati per la 28esima giornata di campionato in Lega Pro Girone B e il calendario delle gare in programma sabato alle 14.30 Pissoiese Ancona arbitro Pillitteri di Palermo sempre sabato alle 16 Cararese Terra Mollanza di Nichelino e Forlì Tutto Cuoio Fiorini di Frosinone mentre Pro Piacenza San Marino di Roberto di Nocere Sant'Arcangelo Savona Tardino di Milano e Grosseto Pisa che si giocherà invece alle 19.30 Colarossi di Roma 2 domenica invece alle ore 16 Ponte d'Eragubbio Dionisi dell'Aquila e domenica alle 18 Ascoli Lucchese sarà arbitrata da Mastro Donato di Molfetta mentre Spal Prato da Colosimo di Torino mentre lunedì alle 20.45 l'Aquila Reggiana Monreale di Roma e sarà recuperata domani l'Aquila Ponte d'Eragara del campionato di Lega Pro Girone B non disputata proprio a causa della neve i rosso-blu aquilani sono a quota 38 contro i 39 dei Toscani ma la squadra di casa deve ancora recuperare la gara con il tutto cuoio certo è che per mister Zavittieri messo in discussione dopo la brutta sconfitta di Lucca di sabato scorso non ci sono alternative al successo e l'Aquila Ponte d'Era avrà inizio alle ore 14.30 dopo una giornata di riflessione ed un lungo confronto con il proprio allenatore la Miternina ha comunicato di aver respinto le dimissioni del tecnico Vincenzino Angelone confermandogli così la piena fiducia e oggi pomeriggio nel giorno di ripresa degli allenamenti c'è stato un ulteriore confronto tra dirigenti e calciatori a cui la società ha chiesto il massimo impegno e totale disponibilità per raggiungere l'obiettivo fondamentale che è appunto quello della salvezza e si disputerà venerdì prossimo a Campli con inizio alle ore 20.30 il Memorial Enzo Borgognoni e si sfidiranno la Globo e il Roseto Sharks Club di serie A2 Silver le squadre che attraversano un ottimo momento in campionato renderanno omaggio la figura di uno dei più grandi dirigenti sportivi abruzzesi di basket che ha legato la propria vita al club farnese restandone legato fino all'ultimo respiro sarà una buona occasione perché le rispettive tifoserie non soltanto rispondano in maniera massiccia all'appuntamento di venerdì al Pala Borgognoni con inizio alle ore 20.30 ma restiamo in tema di basket con un omaggio alla grande prestazione dei farnesi domenica scorsa contro la corazzata Ortona il servizio ortona ortona Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Archiviata la fase eliminatoria a Gironi, la Coppa Italia di Lettanti entra nel vivo con l'andata dei quarti di finale in programma domani. Si parte alle ore 14 con Lanusei Renato Curi e Angolana, mentre alle ore 15 si prosegue con Bustese e Campo d'Arsego, Città di Castello, San Gimignano, Sport e Acri Virtus Francavilla. Le gare di ritorno invece si disputeranno il prossimo mercoledì 11 marzo, sempre alle ore 15. Lanusei Renato Curi-Angolana sarà diretta da Daniele De Tommaso di Rieti. Il Piane di Morro comunica che il tecnico Attilio Pilone si è dimesso da allenatore della prima squadra. Il Piane di Morro è quintultimo in classifica con 25 punti ma la zona salvezza ha portata di mano. Il suo successore è ancora Massimo Sirocchi, ascolano ex Portodascoli, carassai atletico azzurra. Sordirà in casa sabato prossimo contro la New Generation, terza forza del torneo. E da stasera al termine della seconda edizione di Genius, dal lunedì al venerdì parte Genius Piceno, un'edizione quotidiana di informazione suppletiva prodotta nella nostra redazione di Colli del Tronto con l'intero staff tecnico e giornalistico impegnato per meglio integrare il territorio piceno a quello vibratiano. Nel rispetto del progetto editoriale della nostra emittente che dal primo giorno ha dichiarato di voler sviluppare l'ambizioso progetto editoriale di TV del quadrilatero. Un ringraziamento a Daniela Facciolini, Cristian De Luca e Stefano Di Sidoro che per primi fra tutti oggi hanno operato dalla redazione picena di Colli del Tronto. Bene, questa era la nostra ultima notizia, Genius torna domani alla solita ora, buon proseguimento con i programmi di Super J.